Il pienone registrato a Salerno nel primo weekend di Lucida Artista ha provocato disagi soprattutto a chi vive nel centro storico. Tra aree di sosta ridotte, strade interdette, percorsi pedonali obbligati, i residenti hanno dovuto fare i conti con non pochi problemi. Una situazione definita invivibile da cui scaturisce la proposta del consigliere di Forza Italia, Roberto Celano. Destinare alcune aree, per esempio l'area di parcheggio ad accende al Genio Civile, oppure l'area ad accende al Ristorante del Golfo, o anche una parte del parcheggio del Crescent, per i residenti del centro storico. Questo per alleviare i disagi che sono costretti a tollerare. Problemi annotati anche dall'amministrazione comunale di Salerno, che tuttavia ha evidenziato anche i benefici che Lucida Artista porterà all'economia cittadina in queste settimane. I problemi ci sono sempre, quando ci sono i problemi significa che comunque ci sono le cose che vanno bene, perché se non ci fossero centinaia di persone che vengono da tutte le parti d'Italia, è chiaro che si possono creare degli ingorghi, dei parcheggi selvaggi e altro, e bisogna sicuramente alzare più la guardia. Detto questo, le cose da migliorare, partiamo comunque dalle cose. Sono stati oltre 60 pullman prenotati nello scorso weekend, un weekend all'insegna del cattivo tempo, e la gente era tanta in strada. Ho visto anche i negozi di food e beverage essere pieni, voglio dire che c'è stato un bel fermento, un bel movimento.